Un fronte comune contro l'inquinamento nella piana di Venafro che coinvolga anche gli altri comuni confinanti e questo in sintesi quanto emerso durante il consiglio comunale di Venafro in cui si è discussa la mozione presentata dall'opposizione per far fronte ai continui sforamenti di polveri sottili registrati in questi giorni sul territorio. Durante la seduta dell'aula consigliare è stato approvato il bilancio ma le attenzioni erano tutte rivolte alla mozione presentata dalla consigliera Anna Ferreri per chiedere un tavolo di concertazione regionale sulla questione piana di Venafro. Stanno morendo persone giovani, sono aumentati i casi di tumore, sono aumentati gli aborti spontanei, chi vive il territorio tutte queste cose lo sa e si rende conto che non è un aumento normale, è dovuto ad una qualità dell'aria e anche ovviamente al sottosuolo e al territorio dove ci sono ovviamente degli inquinanti. Il sindaco se anche non ha un'attività diretta ma un'attività indiretta perché la regione che determina e decide sull'inquinamento ha un'attività propulsiva ha un'attività consultiva, di richiesta alla regione, atti formali che devono essere indirizzati al presidente della regione, alla ASLA, al direttore generale qui non si può dormire più, bisogna fare atti formali anche intimazioni. Alla proposta della Ferreri è stata aggiunta anche la mozione della maggioranza firma del sindaco Alfredo Ricci, il quale ha chiesto che oltre all'intervento dell'ente regionale ci siano anche degli incontri con i comuni di Pozzilli, Montaquila e Sesto Campano affinché possano anche loro intervenire direttamente sulla questione dell'inquinamento. Sono state inoltre avanzate delle proposte per l'installazione di centraline mobili nei vari punti interessati dalla presenza di aziende che potrebbero essere potenzialmente inquinanti. Tutte proposte inserite in un documento di sintesi votato all'unanimità dal Consiglio Comunale che saranno nuovamente discusse a gennaio durante il Consiglio monotematico a cui parteciperanno anche la regione, l'ARPA e le associazioni del territorio.